Centinaia di migliaia di ettari di oliveto a rischio abbandono e tante famiglie che basano la loro economia sul settore dell'olio di oliva a un passo dal tracollo finanziario. E la preoccupante situazione dipinta dal presidente del Comitato Nazionale Olivicoltori Gennaro Sicolo, ascoltato in audizione negli scorsi giorni dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Secondo una simulazione elaborata proprio dal CNO, i pagamenti diretti dalla PAC coprirebbero tra il 25 e il 50% del valore della produzione vendibile di un'azienda olivicola standard, che comprometterebbe i futuri pagamenti facendo perdere alle aziende la capacità di coprire i costi di produzione. Sicolo annuncia di aver costituito un gruppo di lavoro ad hoc per studiare l'iter di approvazione della riforma. Le aziende olivicole, denuncia il presidente, possono perdere anche fino al 70% del sostegno oggi erogato. Le scelte nazionali devono tener conto di ciò del possibile compromettente impatto sul settore dell'olio d'oliva. Sicolo è certo che sia necessario lavorare non solo sui pagamenti diretti disaccoppiati, ma anche sul sostegno accoppiato, sullo sviluppo rurale e sulle misure di mercato, con particolare riferimento all'aggregazione dei produttori nelle organizzazioni dei produttori. Anche se l'obiettivo principale dovrà essere la realizzazione di un piano nazionale olivicolo così come è stato tempestivamente fatto dalla Spagna e dagli altri paesi mediterranei.